Musica Sì, ciao amici, benvenuti in un nuovo video Oggi stasera, cioè perché ormai è sera Aurora e Maria Pia faranno un pigiama party Abbiamo preparato il tutto Siamo qui in salotto, a terra Abbiamo messo un super piumone Con tutti i cuscini e i loro amichetti Guardate cosa c'hanno Ciao Ci sono Minnie C'è Young C'è lo Spank Dov'è? Fallo vedere Le Winx, guardate qui come sono belle e comode Noi siamo le Winx Tu sei una Winx? Guardate un po' Sì E allora siete felici di fare questo pigiama party? Sì Sì Lo volevano fare da tanto tempo, è vero? Sì Oh che meraviglia Abbiamo un po' di fame Hai un po' di fame? Volete fare uno spuntino già? Ok mamma va a prepararvi qualcosa Ed eccoci qua, siamo andati a prendere qualcosina da mangiare Buone Abbiamo portato le caramelle Sì Il biscottino al cacao Come sono i biscottini I biscottini normali Il succo e le patatine Che non possono mancare E basta per bagnare Ma va bene Allora come sono queste cose? Come sa il biscotto con zucco? E tu cosa mangi? Un coccodrillo Un coccodrillo? Lo voglio pure io, posso assaggiare? Sì Grazie Allora come sta andando questo picnic? Questo pigiama party Il pigiama party sta andando male Perché Mario Pia già si è annacquata col succo Ok, aspetta Ed ecco qua Abbiamo risolto il problema Abbiamo tamponato Allora? Vi state divertendo? Sì Vi piace? Sì È bello, rilassante? Guardate, io trovo sì Il marshmallow Eh sì, la parte bianca Zuccherina Poi c'è la gelatina Poi c'è la gelatina rossa Ma mangi i biscotti pure? I biscottini? E tu? Dopo che ho finito il coccodrillo Come sono questi biscotti? Ti piacciono? Allora Mi mangi i biscotti dopo che ho finito questo coccodrillo Va bene Questo coccodrillo Sì, pure secondo me Meglio chiuderlo Eh mamma Dimmi Il coccodrillo Il coccodrillo Ma Mi ha morso la gola Il coccodrillo Ti ha morso la gola il coccodrillo Eh mannaggia Questo coccodrillo Ma no Ma sì, dai Ci sono gli altri Non litigate per le caramelle Guardiamo Ha pure un cuscino a forma di mini Vediamo Sì Va bene Va bene Abbiamo bagnato tutto Col succo Però Va bene Ma secondo me fa freddo Però E ci porti la coperta Ok Finite di mangiare Non ti piace? Lo sapevo Ok Un luogo di acqua Va benissimo Allora avete finito di mangiare Per il momento? Io bevo bene Un po' di acqua Dimmi amore Vi voglio far vedere Tutti i balletti Che faccio In forgato Tu vatti Se avete Sui shirt Che faccio Soprillo E faccio Un peschetto Così Sì Le piace molto ballare Appia Dai faccio vedere Il TikTok Allora Lei è un balletto Lo sai cosa fate In un show Mangiava una gamba Vai più indietro Ok Guardiamo questo ballettino Posso dire una cosa? Ma sei bravissima Dai faccene vedere un altro Ciao 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 Bravo 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 Dimmi amore Aspetta Ok Ce la fai vedere Pure tu Un balletto? Ma sei che li sai fare Fa vedere come alzi la gamba? No, io non li voglio fare con niente Brava Dai, faccelo vedere pure tu un tiktok Ok Dai Posso fare questo Amore Brava Bravissima Guarda Wow Vado a finire il mio tiktok Wow, bravissimo Pure il cuoricino E il balletto di mercoledì? Fate vedere il balletto di mercoledì Facciamo vedere questo balletto di mercoledì Bravissime Brave, brave, brave Brave Brava, brava, brava Brava Amore mio Cucciola Bravissima Ok Continuate a mangiare Aurora Aurora Che stai facendo? No Ok Per cosa vorrei fare un altro po' qui in questo pigiama party Bellissimo Ciao C'è anche mamma Ciao a tutti Anche io faccio il pigiama party con loro Ciao Stai divertendo? Mi piace questo video Ciao Ci vediamo dopo Ciao Kimbe Che fate? Stiamo giocando a Roblox A Roblox E tu? Tu stai bevendo? E vediamo questo Roblox com'è? Vediamo come giochi Aspetta No Questo questo poi ve lo tanto No Come si sta? Vediamo Stai creando un nuovo personaggio? E tu che fai? E mangia amore Brava Ma si sta bene qui sopra? Sì Adesso io sarò in braccia a mamma Vieni amore Vediamo come giochi a Roblox Facci vedere un po' Ai ai Aspetta Aspettate Sono E' da me Noi è Halloween Mi metterò dei capelli Halloween E' bello Dai Poi ci sono tutti i capelli Il tuo avatar Oh E' il tuo avatar Maria Pia E' il tuo avatar E' il tuo avatar Sì E' il suo avatar E anche tu ci giochi sempre Quando me lo dice Maria Pia però Giocano insieme sì Poi ci troviamo E si trovano sempre su Roblox Mamma mia cosa è morbida con questa maglia Sono morbida? Sì Questo video mi piace un sacco Ti piace un sacco? Sono felice E' stare qui E' stare qui Inzagliata Va bene Hai capito? Certo Sono con voi Con i nostri amici Pupazzosi Guardate come sono carini Tutti morbidosi Vero? Mi metterò qualcosa di altro Che ho detto Mh Mi metterò Wow E' questo Ok Vediamo E' pronto il tuo avatar Te lo faccio vedere Ta-ta Come è carina Hanno spossato un po' tipo le cose Questo tipo l'altro L'hanno sposto Era qui Ho capito Però poi l'hanno spossato di qui Va bene Quello l'hanno messo con la porta di qui Ok Questo qui Non so perché Guardate Se io mi chiedo Se qui c'è questo Lo tocchino Questa Io Se io provo Ho c'ho sentito Ho c'ho sentito Proprio Va bene Allora vi lascio giocare A fra poco Ciao Va bene Ehi cucciole Che fate? Io sono ancora giocato Stai ancora giocando E tu? Io sto vedendo occhi Ma l'ho detto Scalavaggio Tu ti sei posizionata sul divano? Sei stanca? Sono stanca Oh piccolina E tu cosa stai giocando? Pia Facci vedere Giro il tablet Wow Che cos'è? E' un gioco Delle bamboline Che le vuoi creare Le puoi creare tu? Vediamo Mamma Oh Sì Dimmi Vediamo Vieni amore Vieni Perché sei un bel Sono morbidosa? Sì Vediamo Cosa devi scegliere adesso le calme? C'hai jeans Che bella Poi È molto carina Che bella Sì sì Ma lo sapete che tra un po' dovete cenare? Non sei molto pronta Non sei molto pronta per cenare? Non vuoi mangiare? Io voglio mangiare ma però nel tavolo Non vuoi mangiare qui a terra sul piumone? No Poi rilevo Ah va bene Sono peluscia? Ok Finisci di giocare Ciao Ciao mamma Ciao piccina Ciao 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 Salutiamo Salutiamo? Cosa dite? Eh? No Salutiamo i nostri amici? No No? Non vuoi salutare? Ma sì che continuiamo Però salutiamo ok? Che si è fatto tardi? No 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 Sì Dai Di te Da me Ciao Ciao Ragazzi salutiamo Leonora che è la nostra prima fan Ciao Leonora un bacio Allora ragazzi questo video finisce qua Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto mettete un like Cliccate sulla campanella E noi ci vediamo in un prossimo video Tanti pollicioni in su Tanti pollicioni in su mi raccomando Al prossimo video Ciao Ciao